Dammi un ferro e branca. Uè Camillo, come stai? Michele, come hai fatto? Michele, come hai chiesto? Come hai chiesto? Come hai chiesto? Come hai detto che non vengono? Invece vengono. Ma dove mi mettono? Ma qui sotto? Sotto a letto. Ma non c'entro qua sotto? Ma sì che c'entro, c'entrano tutti sotto. Marisa! Quello che ha accidenti, ha accidenti a lui. Quel dannato, quel cagnaccio della malora, quel fiol d'un cancro, la maledetta bestiaccia. Dico. Quale sacrificio non farebbe una donna per essere bella? E va bene, questa la prendo. Va bene, molto bella. Ma perché non mi fa vedere quel bel modello estivo che mi aveva promesso, fresco, leggero? Sì, subito. Tonino? Tonino! Comandi? Propresa, come sta? Come sta lei? Bene, grazie, bene. È uscito pure il sangue. Sono pronta! Ma che fai? Pronta a bere nella coppa dell'amore. Eh, Michelino? Adesso che sei tornato, sarà tu in computer. Guarda che non finisce mai questo in computer. Dai, Michelino, dai, spogliati finché sono calda. Sì, va bene, io mi spoglio, mi spoglio. Ma tu dopo mi dai. Dunque, allora, lei apre, due assi apre. Lei non gioca. Questo fa tre volte. Io faccio sei volte. Gioca. Camminare sei volte sono 600.000 lire. E vabbè, questo gioca sempre. Mamma mia, mai te lasse lo chiamano. Eh, per contentare quelle due sporca ciò. Uè, 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 uè. E come di per me? Eh, tu sei la serve in questa casa, devi stare al posto tuo. Io in questa casa sono l'amministratore. Sì, ma si capisce, certo che facciamo come le altre volte, in condominio. Anche col penachini, mi davi sempre la precedenza? Col penachini, ma no. Ah no, è vero, scusa, Bartolotti, ragioniere, scusami, beh, ma non ricordo mai un tubo. Senti un po', e dove lo porti Michele stasera? Nel polaio? Ma si capisce, è più un attur, no? E poi sai cosa ti dico? Così, se... No, no. Michele. Eh? Ma cosa? Sto scrivendo qua tutto. Ecco, prima non scrivere sui registri a rifosfati. E io ci devo andare. Che mi ha pigliato? Eh, tutta colpa tua. Mi lo tagliasse proprio. Dunque, vediamo a quanto al mondo il deficit. 900.000 che ho perso. Ma questo è un ticcettivo. Ma non è nel cervello. Viene dal bagno. Vida molezza. La figura, avide e snella, offerta allo sguardo. Odorosa. No. Mi sforzo. Mi spremo per tirare fuori. È un libro d'avanguardia. Contro i tabù sessuali anteriori. È anche un libro di retroguardia. Contro i tabù sessuali posteriori. È il seguito. E loro come reagiscono? Aspetta che prendo il limone, sennò rimane la gora. Sempre parolacce. Grazie. Prego, dov'era? Zia, ne puoi? No, grazie. Figurati se mangio quella roba lì. Poi tutti quei chicchetti che mi rimangono infiliati in gola. Perché non facciamo qualche piccolo giochetto? Come? Un giochetto? Ja, con carte. Ah, con carte. Certo. Ecco le carte. Non so, che vuoi fare? Una canasta? Ed egli... Chi? Ed egli la vide. Ed egli la vide come fosse... Ed egli la vide come fosse la prima volta. Senti, a me mi tocca andare in paese a fare delle spese. Quindi quando la tedesca suona la colazione ce la porti tu. Io? Ma io faccio l'amministratore, mica faccio il cameriere. Scusate, io sono buono e caro, ma questo significa approfittare. Qui si sta esagerando. A me poi quella mi sta pure antipatica. E a te? A me mi state tutte sulle balle. Appunto, dico. Guarda. Avanti. Buongiorno. Perché hai portato tu mia colazione? No, siccome Giudice è uscita, allora sai, per non farti... Seduto. Ah, ecco. Seduto. Ecco. Sicuro che non l'hai fatto a posto? Ja. Sola. Levo il vassoio. Levo il vassoio. E come non lo levo il vassoio? Non ve levo l'ora. Meno male. No. Ma a me sì. Comunque ce l'hai petalissima, possiamo andare di là. La zia buona, dove vuole andare? Qui. È una specie di quiz. Stammi a sentire, concentrati. Apri bene le orecchie e stammi a sentire. Ma hai bussato? C'hai chiesto? Eh, ho bussato che ci sente male. Ma non puoi riprovare? Ma dico, sei matta. Con tutta la gente che c'è per casa, c'è anche il Michele. Come Michele? Non è andato a giocare? No. Eh no. Tanto lo so benissimo che voi lavorate in tanto. E siete due porcelloni. Porcelloni? Eh, ma come sei volgato. Sì. In tanto. Ma non sarai mica matta, vero? C'è la maschera. E c'è anche la mutante. No.